Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, siamo già alla quattordicesima puntata di App Utili, la nostra rubrica che va in onda ogni due lunedì in alternanza con la personalizzazione. E oggi parliamo di auto, perché comunque tanti amanti della tecnologia sono anche amanti del mondo automobilistico, ma tecnologia non vuol dire solo avere un'auto con funzioni smart, vuol dire anche saper gestire la propria auto in modo da non avere 3000 scartoffi sparse qua e là in tutta la casa e saper sfruttare poi i dati sulle spese e i consumi che monitoriamo in modo da migliorare, ottimizzare e magari a fine anno risparmiare qualcosina sulle spese che facciamo. Insomma, se state comprando una nuova auto oppure siete stufi di guardare tra centinaia di fogli per trovare le scadenze, i costi e i consumi della vostra vecchia auto, questo è il video che fa per voi e vi racconto tutto dopo la sigla. L'app che vi consiglio per gestire la vostra auto si chiama Il Pieno 2, tutto attaccato ed è fatta al 100% da uno sviluppatore italiano e soprattutto è gratis, con pochissima pubblicità ma tantissime funzionalità. Allora, per prima cosa andiamo subito nel menu laterale e nella voce gestione veicoli dove possiamo inserire tutti i nostri veicoli che siano auto, moto, furgoni o autobus Inserendo tutti i dati importanti del mezzo come ad esempio il modello, l'anno, la targa, il numero di telaio, il numero di assicurazione e soprattutto impostando il tipo di serbatoio con il tipo di carburante che usa la vostra auto O anche mettendo la possibilità BFuel se per esempio avete un'auto GPL con serbatoio principale a GPL e serbatoio secondario a benzina Una volta scelta l'auto che volete gestire andiamo dunque sul menu Home e qui abbiamo essenzialmente una lista dei rifornimenti di carburante e delle spese fatte nel tempo E qui tramite il tasto più in alto possiamo aggiungere velocemente i dati di ogni rifornimento che facciamo mettendo la lettura del contachilometri, il totale pagato, i litri erogati e il benzinaio da cui è stato effettuato E selezionando anche se è un pieno o un parziale e se avete un BFuel decidendo quale dei due carburanti avete riempito Comunque se non avete modo di mettere subito i dati appena fatto il rifornimento nella Home tramite il pulsante a forma di fotocamera potete fare una foto alla colonelina del benzinaio e una foto al contachilometri In modo da avere la foto nell'app e trascrivere poi i dati in un secondo momento Vedendo una lista così diciamo che non è troppo utile Però scorrendo verso sinistra potrete vedere vari grafici di andamento nel tempo tipo l'andamento del prezzo del carburante, il vostro consumo in km al litro e gli euro spesi per km Andando invece verso destra dalla Home potete vedere i distributori vicini a voi listati per distanza e se disponibili anche con delle informazioni con il costo del vostro carburante principale in quel distributore aggiornato alla data più recente in cui qualcuno ha aggiornato i dati Bene ora che abbiamo lo storico dei rifornimenti tenuto volta per volta dalla scheda lista potete vedere i dati sui rifornimenti in maniera ancora più dettagliata con in particolare enfasi sui km al litro fatti ad ogni rifornimento E varie schede per vedere le spese fatte ogni settimana, ogni mese o ogni anno oppure ancora per vedere qualche statistica sui distributori a cui avete fatto rifornimento Ma il pieno 2 non è solo pensata per tenere traccia dei rifornimenti perché come vi ho detto ci si può assegnare anche le spese E qui davvero potete metterci qualsiasi cosa Quando andiamo ad aggiungere una spesa e iniziamo a digitare il tipo di quella spesa vengono fuori delle opzioni suggerite che coprono il 99.9% degli scenari di spesa possibili E poi possiamo mettere l'importo della spesa, la lettura del contachilometri, l'officina che ci ha serviti e anche una foto o un pdf che tenga delle informazioni o delle ricevute o ancora delle note extra che riteniamo importanti E anche qui possiamo vedere le spese in una lista oppure divise per mese o anno o un totale da quando abbiamo acquistato quel mezzo Inoltre per non dimenticarsi di pagare l'assicurazione o di cambiare i pneumatici o qualsiasi altra scadenza c'è una scheda dedicata proprio alle scadenze e impostandole o come scadenze temporali o in base al contachilometri L'app si ricorda di quelle scadenze e quando sono imminenti provvederà a ricordarcelo Ok, questi sono secondo me gli aspetti più importanti dell'app e se prendiamo l'abitudine di segnare sempre tutto in quest'app Poi nella scheda grafici avremo una valanga di grafici utili a capire le nostre spese, il nostro stile di guida e come limare un po' certi costi Mentre nella scheda statistiche avremo varie medie e dati che ci possono anche aiutare a capire in media quale benzinaio ha un carburante migliore o più adatto alle nostre tasche In timeline poi abbiamo un bello storico a forma di lista che ci mostra le voci di nostro interesse sulle spese Mentre può escludere ciò che non ci interessa vedere Oppure in report si può capire esattamente quanti soldi si spendono per ogni voce di spesa e quali sono la percentuale delle cose che costano di più nel mantenimento della nostra auto Inoltre per non tenere un sacco di scartoffie potete salvarvi una copia delle fatture direttamente nell'app mettendo anche qui se volete una foto o un pdf allegato E poi nella voce foto trovate tutte le foto caricate E ci sono anche i grafici combinati per confrontare l'andamento delle spese tra i vostri veicoli di proprietà Capire quanto spendete o consumate di più con l'uno o con l'altro Potete anche salvarvi una copia digitale delle carte carburante dei vostri distributori preferiti O salvarvi la posizione in cui avete posteggiato la vostra auto direttamente nell'app Che viene fatta automaticamente se avete il bluetooth collegato alla vostra auto Oppure potete farlo a mano quando posteggiate in un posto che non frequentate di solito E non è nemmeno tutto riguardo a quest'app Ci sarebbero ancora altre chicche qui e lì che però per non fare un video troppo lungo vi lascio a voi scoprire Ma dopo questa mega carrellata di funzionalità vi ricordo ancora una volta che l'app è gratis e la pubblicità compare ogni mai Però se la usate e vi fa risparmiare ogni tanto qualcosina considerate di comprare la versione pro anche solo per supportare lo sviluppatore italiano che l'ha fatta Tanto costa solo 2,09€ per una licenza a vita Come sempre il link per scaricare l'app ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione del video E veramente questa app se avete voglia di girare un po' tra i sottomenu ha tantissime tantissime funzioni su qualsiasi cosa legata al mondo dell'auto Ve lo dico ne ho provate tante di queste app per gestire le auto alcune anche molto più belle graficamente Però questa è imbattibile in fatto di funzionalità Ecco l'unica seccatura a meno che non abbiate un'auto proprio appena comprata è mettersi lì qualche ora la prima volta a trascrivere tutte le scadenze, le tasse, i rifornimenti Insomma mettersi lì a fare questo lavoro manuale che vi porta via un po' di tempo però una volta che l'avete fatto fidatevi che vi semplifica tantissimo la vita Ebbene direi che per questo video è tutto come sempre lasciate un like al video se vi è piaciuto per supportare la rubrica Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi tutti i nostri prossimi video E ovviamente condividete questo video con tutti i vostri amici che sono amanti del connubio auto e tecnologia Noi ci vediamo lunedì prossimo con una personalizzazione e tra due lunedì con una nuova puntata di App Utili Al prossimo video, ciao ciao